Ciao a tutti amici e amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce. Oggi vorrei proporvi l'ascolto di un brano tratto dalle pagine dell'opera di Marco Cappadoni e Mastro Lorenzi, 21 febbraio 1849, un giorno nella Roma dell'Ottocento. Un inviato speciale viene spedito a Roma per un viaggio nel tempo fino al 21 febbraio 1849. Con l'ausilio di finestre spazio-temporali potrà muoversi liberamente per raccontare dei fatti storici in una visita programmata di un solo giorno. Ma perché proprio quella data? In questo tour insolito si potrà forse incontrare Giuseppe Gioacchino Belli, il più grande poeta di Roma e del suo popolo, vederlo all'opera nella sua officina e passeggiare per la città alla metà dell'Ottocento tra ruderi dei fasti antichi, strade, piazze, chiese, palazzi non più esistenti e trattorie tipiche con la migliore cucina romana. Un viaggio nella Roma del secolo XIX per scoprire i grandi cambiamenti urbanistici e storici che hanno portato la città eterna a diventare la metropoli che è oggi. Difetti e virtù della città tra le più belle del mondo. Marco Cappadoni a Mastro Lorenzi, semiologo del testo e docente di letteratura italiana, ha pubblicato saggi di critica letteraria in riviste specializzate come il 996 e letteratura e società. Scrive e collabora per alcune riviste cartacee e telematiche, tra cui Lucidamente e Query. Si occupa di divulgazione scientifica e nel 2016 ha pubblicato insieme a Piero Angela Giornalismo pseudoscientifico per la collana Scienze et Causa. Ora leggiamo l'introduzione al libro. Un inviato molto speciale. Immaginiamo di disporre di una Time Machine come nella notissima trilogia di Ritorno al futuro diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd e di realizzare un viaggio nel tempo. Chiameremo la Time Machine con il lome di fantasy che viene dal greco fantasia, in italiano fantasia, termine che indica appunto la facoltà della mente umana di poter creare in piena libertà immagini, scene, storie, indipendentemente se queste siano reali oppure no. Useremo quindi la fantasia in questo viaggio nel tempo per raccontare però dei fatti reali e documentati storicamente. Andremo in questo modo a fare visita alla città di Roma e al suo popolo nella prima metà dell'Ottocento, in una città molto lontana dall'essere la metropoli con il comune più popoloso d'Italia e il terzo dell'Unione Europea dopo Berlino e Madrid. La capitale d'Italia infatti è ormai una grande superficie di quasi 1300 chilometri quadrati con circa 3 milioni di abitanti. Ma all'epoca di cui parliamo il nucleo abitativo dello spazio urbano occupava meno di 400 ettari abitati da 150 mila abitanti e nelle campagne infestate dai briganti avremmo trovato sparse nella vastità appena 3000 persone. Programmeremo la fantasy per fare un viaggio di un solo giorno dall'alba alla mezzanotte del 21 febbraio 1849 ai primordi della cosiddetta seconda repubblica romana e avremo la possibilità e speriamo la fortuna di incontrare il più grande poeta di Roma, Giuseppe Gioacchino Belli, che attraverso le sue poesie ci lascia un vero e proprio monumento del popolo romano del tempo, ma anche di questa città che è molto cambiata rispetto a come siamo abituati a vederla oggi. Il mio compito sarà quello di un inviato speciale a passeggio per la Roma dell'epoca che, grazie ad alcune finestre spazio-temporali, cercherà di raccontare una storia con l'ausilio dei classici flashback narrativi. Mentre racconterò i fatti dall'interno, per così dire, un compagno di viaggio piuttosto informato e attento al quale cederò subito la parola mi seguirà come conduttore di un programma divulgativo da uno studio televisivo e mi porrà continuamente delle domande alle quali cercherò di rispondere mentre ci muoveremo nel tempo e nello spazio cui sono destinato. Il mio lavoro sarà anche quello di visitare il laboratorio di scrittura del poeta romano e di vederlo, se ci riusciremo, all'opera. I sensori della macchina del tempo si stanno nel frattempo accendendo, segno che il nostro viaggio sta per iniziare. Si comincia! L'approdo, ore 6 e 30. Prendo dunque la parola dallo studio mentre si sta aprendo il collegamento con il nostro inviato che credo sia arrivato in loco. Sono le 6 e 30 del mattino e per le strade di Roma l'illuminazione probabilmente non sarà delle migliori nel 1849, ma il sole sta già illuminando i luoghi. È arrivato senza problemi? È stato un po' a scossoni, diciamo, ma il teletrasporto temporale non sempre è morbido. Mi sto incamminando ora verso via Monte della Farina, mentre vengo da un agglomerato di abitazioni oggi demolite che corrispondono grosso modo alle attuali via di Torre Argentina e Corso Vittorio Emanuele II. Stai intanto albeggiando e la luce inizia a guidarmi abbastanza bene tra queste strade. Ci sono già delle persone che stanno girando per le vie e delle botteghe di calzolaio e di falegnameria che stanno aprendo. Ecco qui anche un forno. Posso sentire il profumo del pane appena fatto. È un mercoledì qualunque e dal chiarore che diventa sempre più nitido posso vedere un cielo piuttosto sereno su Roma. Fa abbastanza freddo e alcuni comignoli sui tetti iniziano a sbuffare fumo, segno che chi lo possiede sta accendendo il camino in casa. Come arrivano le immagini nello studio televisivo? Il collegamento è ottimo direi e posso seguire bene i suoi spostamenti e ascoltare la sua voce in modo chiaro. Bene, ho attraversato il rione nono, detto pigna da una statua in bronzo raffigurante una grossa pigna, appunto trovata nel Medioevo presso le termi di Agrippa e agli inizi del Seicento collocata nel cortile del Bramante, nel complesso dei musei vaticani. Sono passato davanti alla facciata anteriore della chiesa di San Nicola dei Cesarini, un edificio oggi non più esistente che si affacciava sulla piazzetta omonima, anch'essa scomparsa. Durante gli anni 20 e 30 del Novecento furono demoliti molti luoghi della Roma dell'Ottocento, tra cui diverse strade e vari edifici della zona. Sto entrando ora nel rione ottavo di Sant'Eustachio, praticamente confinante con il pigna, rappresentato da una testa di cervo d'oro con il busto di Cristo in Camporosso. Sant'Eustachio è il nome di un martire cristiano dei primi anni del secolo scorso, a cui è intitolata un'antica chiesa che tradizione vuole sorga sul luogo del suo martirio. La Basilica di Sant'Eustachio, appunto. Nel frattempo sto arrivando in via Monte della Farina, che collega via del Sudario a Piazza Benedetto Cairoli. Il toponimo della strada deriva dalla presenza, in questa zona, degli uffici del Monte della Farina. Una istituzione esorta nel Quattrocento e accomunata ai Monti di Pietà, ma invece di prestare soldi, prestavano grano e prodotti della terra per sottrarre i bisognosi ai prestiti degli usurai. In questo rione vi sono edifici importanti, come il Palazzo della Sapienza, sede dell'Archivio di Stato, che oggi dà su Corso a Rinascimento, importante strada costruita durante l'età fascista e chiese note, come Sant'Andrea della Valle e San Carlo ai Catinari. Quest'ultima, proprio qui, a due passi. In questo palazzo alle mie spalle, oggi non più esistente, in via Monte della Farina 18, abita attualmente quello che gli addetti ai lavori definiranno il più grande poeta del popolo di Roma, Giuseppe Gioacchino Belli. Bene, spero di essere riuscita a incuriosirvi. Se questa lettura vi ha appassionato, vi ha fatto venire voglia di compiere questo bellissimo viaggio nel tempo a ritroso in direzione 21 febbraio 1849, buona lettura, un grande abbraccio e grazie per avermi ascoltata fino alla fine. Ciao da Rosanna!